Musica Ciao amici, io sono Jim e io sono Kata e questa è Spicey Life Benvenuti a questo nuovo video E oggi andremo a presentarvi una sfida mai vista Trepitosa La Maionese challenge Avete presente la maionese? Sì, la maionese, quella nelle vaschette dei fast food Quella che spremi i tubi e viene fuori Credo che non ci sia niente di più difficile da fare Mettere insieme le uova, il limone, il sale e l'olio Beh, credetemi In confronto forse è più facile innamorarsi di qualcuno che non pensavi mai e poi mai che ti sarebbe piaciuto Davvero, la maionese è così Può impazzire da un momento all'altro Un istante sembra perfetta e l'istante dopo tutti gli ingredienti se ne stanno per i fatti loro Ma se ci riuscite non c'è più niente che vi potrà fermare Che idea di merda Merdissima Dovremmo mangiare 475 grammi di maionese Oh mio dio Oh mio dio Ma perché lo facciamo? Però sono un uomo d'allenamento da terra Ah beh, allora no Allora Meno male Perché lo facciamo? Perché siamo scemi Allora premessa La Calvè non ci paga per questo video Il problema è proprio mentale nostro Allora, come funziona? Come funziona? Dobbiamo mangiarcela il più velocemente possibile Sì ma Cioè È maionese? È maionese Sarebbe divertente Giustamente Giustamente Allora Come funziona? Il primo che finisce il barattolo Di maionese Tutto Che sarà Mamma mia Prenate il bagno Vince Il perdente Dovrà fare Ben Dieci Flessioni Subito dopo aver mangiato questa sbobba Ipercalorica Io non voglio neanche calcolare Il totale delle calorie Perché sto già male Però Andava fatta questa sfida E tu Sei pronto a farla? Non mi piace se sono i calorici Non guardare Non guardare Allora Accetto la sfida io L'accetti? L'accetto Ok Prepariamoci E Finci E allora Cominciamo Qui abbiamo la nostra Famosissima Stacchiera Stacchiera che ci ha accompagnato Che in realtà Che ci viene da sputare Non so che qua dentro Non c'è qualcosa No Qui abbiamo i nostri Due cucchiai Ma chi sputa per te Comunque Quindi Ecco Non c'è Allora Intanto Apriamola Ma non possiamo usare Le ghiustelle Da intuppare dentro No Oggi il pane Ragazzi Maionese Calvetra L'altro Abbiamo deciso di Trattarci bene Questa almeno E' buona A questa tipo di cosa Andai contattateci E dateci soldi Con questa pubblicità Questa la tagliamo Sbagliamo Non la tagliamo Allora Come funziona Che infilo dentro Che non abbiamo La prova Per vedere Che il barattolo Realmente Non esce E non cade niente Siamo pronti 3 2 1 Via Non ce la faccio È una tortura Mi sto mangiando Con un kebabaro Che c'è maionese Penso che questo sia Un ottimo Modo per smettere Di mangiare La maionese Per sempre Questa è una liscia È buona Comincio a dovere Dei dubbi Che rendi? Un po' Cazzo Basta Un po' Un po' Un po' ho vinto ma vinto mi è ingannato sembrava che tu stessi no posso lasciarla io penso che non mangerò mai più ma io ho messo in vita mia ma se una roba prende l'ho fatto basta immaginare che ci siano dei viurcelli delle patatine accetto la sconfitta perché l'abbiamo fatto non lo so perché siamo magri io sento già del movimento della passione a me mi sa che mi toccano 10 flessioni ragazzi per il perdente avete visto cerca sempre di imbrogliare sempre io qua per terra 5 però 10 sono tutti i giorni in paella ho fatto finta di far fatica e ricordate nel mezzo dei fiammi di nostra vita mi ritrovai in un serbosco guidavo la mia ragazza la maionese ci ha dato il cervello è impazzito come la maionese ragazzi io non so quanto resisterò ancora prima di invocare devo fare no non mi è piaciuta questa sfida perché cioè da qui l'abbiamo fatta adesso mi è andata in odio la maionese che però è un'attica è un'attica sai quante calorie in meno ingerirò se il video vi è piaciuto mettete tutti i pollici viallucci tutti tutto quello che avete iscrivetevi al nostro canale condividete e continuate a seguirci ciao 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 spicy 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 con la nostra animal crew ci siamo tutti ciao 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 Grazie a tutti.